Ciao a tutti amici di EvryEye, qui è Felice ed oggi siamo sulla beta di Titanfall Beta che resterà disponibile per poco tempo, fino al 19 febbraio Quindi insieme ai live che avete già visto di Andrea Porta, molto specifici riguardo questo gioco Abbiamo voluto regalarvi anche qualche gameplay Appunto di uno degli fps di punta, direi di casa Microsoft, in arrivo su Xbox One e PC Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a testare una delle tre modalità presenti in questa demo Come già avrete visto appunto dalle analisi di Andrea Titanfall è un fps abbastanza particolare, molto dinamico Dove si alternano combattimenti, diciamo scontri a fuoco classici Quindi con una modalità, un'impronta alla Call of Duty E poi scontri tramite l'utilizzo di alcuni titani, quindi di alcuni mech giganti Dotati di armi davvero devastanti, ma il cui utilizzo purtroppo è limitato da alcune condizioni che adesso vedremo anche in game Allora, play beta Ho già provato l'addestramento che è durato davvero molto Erano di 20 punti che spiegavano davvero punto per punto come comportarsi Quindi è un addestramento molto specifico, anche per coloro che di fps non ne sanno davvero molto Io personalmente sono un po' una pippa negli fps Però questo non mi impedirà di farvi vedere questo gioco Ma come vedete le tre modalità sono Attrition, Heartpoint e Last Titan Standing Che sono praticamente, Attrition è un classico deathmatch a squadre Heartpoint è la classica, diciamo, conquista del punto strategico da difendere per guadagnare punti E Last Titan Standing è un interessante, diciamo, un interessante scontro fra titani nel quale non c'è possibilità di respawn E appunto vince l'ultimo titano a rimanere in vita e si parte direttamente sul titano, ecco, non a terra Ok, proviamo subito una partita da Attrition, cioè deathmatch a squadre Vedete ha subito trovato una partita, la mappa è Angel City Se non sbaglio in questa demo sono disponibili due mappe, se non erro Ci ho giocato proprio giusto un attimo per vedere un secondo come funzionavano le dinamiche del gioco, ecco Perché voglio commentarlo, diciamo, in diretta con voi Piuttosto che farvelo vedere semplicemente una volta già scoperti tutti i segreti Fatemi sapere ovviamente nei commenti In che stato è il vostro hype rispetto a questo gioco Se avete avuto la fortuna, come me, come molti altri, di provare la beta Sto registrando questo video il 18 e la beta termina il 19 Quindi ho potuto giocare se non altro due giorni, due giorni e mezzo No, devo dire che per ora è stata, diciamo, un'impressione positiva Allora, qui ci fa scegliere una classe Scegliamo Rifleman per il pilota e Assault per il titano E vedo già gente che muore, salve Abbiamo già trovato gente che ha provato ad ucciderci Come già saprete, sicuramente, se avete visto i live di Andrea Titanfall è caratterizzato anche dalla presenza di I.A. Abbiamo già subito un titano in casa, nemico Dalla presenza di I.A. che principalmente serve a permetterci di fare delle easy kill Dele easy kill in grado di poi farci acquisire il titano a una velocità, diciamo, moderata con lo stile di gioco Ecco, con le sue dinamiche Cosa che magari con delle sole kill avversarie standard non saremmo riusciti a fare Stile, stile Call of Duty, ecco, dove per avere l'elicottero dovevi stare in kill streak Non so, non ricordo quante, 5, 6 Qua a quanto pare siamo arrivati a partita già iniziata Quindi vedo parecchi titani in giro, cosa che all'inizio partita non vedi Vedo gente che mi spara È meglio andarsene da qua Come vedete l'ambientazione è abbastanza carina Ecco, direi che carina forse è l'aggettivo giusto Ok, il mio titano è pronto Perché non... Diciamo, non è particolarmente originale Però ha un tocco comunque di... Non saprei, oserei dire fantascientifico un po' steampunk Ma qualcosa comunque che mi ispira Ok, questa è una posizione abbastanza, mi direi, defilata Per chiamare il nostro titano, sia un po' più lontano Quando appunto abbiamo collezionato, diciamo, abbastanza kill Vedete, dal cielo pioverà questo maestoso titano Nel quale potremo imbarcarci Vedete proprio letteralmente E sperare magari di fare qualche strage Ok, andiamo a cercare qualche people Qua vedo della gente Ho visto uno dei miei amici che tipo si è fatto sparare in aria Salve Oddio Vedete il titano lì ha una barra dell'energia che non si ripristina E qua sono troppi nemici, andiamocene veloci Uh, è durato molto direi Sì, però eravamo in posizione di svantaggio Siamo finiti su un tetto Posizione di svantaggio perché avevamo due titani nemici E noi eravamo uno appena senza nessun tipo di rinforzo Super curiosità, quante persone ci sono in questa partita? Abbastanza direi Comunque, come vedete stiamo usando un classico fucile d'assalto Non ho ancora avuto modo di provare La shotgun E non mi ricordo esattamente l'altra che cosa sia Ecco, siamo già stati sconfitti Come vedete siamo entrati in una partita già iniziata Quando venite sconfitti vi da diciamo un'ultima possibilità di credo guadagnare dei punti Che è quello di correre verso un punto diciamo di evacuazione Che vedete In questo momento segnato Cerchiamo di passare, di defilarci tramite i tetto Che vedete è abbastanza dinamica la cosa Vedete posso saltare, fare Ok, proviamo a passare di qua No, 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 no Facciamo salire qua Sì, ok Ok, ok Sì, ce l'abbiamo fatta L'abbiamo fatta Non uccidetemi Non uccidetemi Non uccidetemi Ok, hanno disintegro Guardatelo Proprio fiero col Col suo Proprio fiero col suo Col suo Col suo mitraione Che butta giù il nostro Il nostro aereo E niente, direi che questa partita è durata molto Abbiamo fatto le kill solo nei primi 10 secondi Anche perché per il resto Ero impegnato a scappare dai titani Quindi proseguiamo Iniziamo Magari ecco una partita Intera In modo da Da poterci anche inserire adeguatamente nelle dinamiche di gioco Perché così Come vedete alla fine di ogni Di ogni match Guadagniamo dell'esperienza Classico Alla stile Call of Duty Esperienza che ci permette di salire di livello A quanto ho capito salendo di livello Poi si sbloccano determinate opzioni Per l'equipaggiamento Sia del personaggio sia del titano E niente La prossima partita si svolgerà penso nella seconda mappa disponibile Che è Fracture E la squadra penso rimarrà più o meno invariata Niente Qualche Qualche delucidazione così sul titolo Come vedete comunque Il sistema è abbastanza interessante Vuol dire che a impatto Giocandoci Ricorda Se dovessi fare proprio un paragone Anche forzato magari Ricorda ovviamente Per ovvi motivi Tantissimo Call of Duty Il modo in cui I comandi rispondono Il modo in cui Con cui interagisci appunto Col personaggio che stai Che stai guidando Il modo Forse il modo in cui fare le kill No Perché forse è un pochino più difficile Rispetto a COD Dove con l'arma giusta Basta davvero Un colpo vicino alla testa E kill assicurata Però davvero Ricorda molto Call of Duty Ecco Se dovessi magari Scegliere a quale FPS Paragonare appunto Il primo impatto Tra COD Battlefield Un FPS arena Stile Unreal Tournament Serious Sam Cose del genere Ecco Probabilmente Ecco Lo paragonare a Call of Duty Anche la schermata di caricamento Non so se l'avete notato Non so che ha la Call of Duty Allora Rimaniamo sempre Con il nostro Rifleman Titan Assault Questa mappa Non l'ho mai fatta Ho giocato una partita Ieri sera Ed ero su Serangio Si Quindi questa mappa È totalmente Inevita Però se non altro Adesso Partiamo tutti Dallo stesso punto Come vedete Comunque Il motore grafico Svolge un lavoro Decisamente Decisamente Buono Ecco Parliamo di un titolo Che già nasce Concepito interamente Su Next Gen Quindi se Consideriamo Se consideriamo Questo Inizio Dalla finestra Che ci saluta Se consideriamo Questo Forse Potevamo aspettarci Di più Ecco Se facciamo già Un paragone Con un Killzone Shadowfall Con un Battlefield 4 Potevamo aspettarci Di più Però Comunque Oddio Oddio Ho fatto una Chi Oddio Sono Vabbè Somma Spawn As a Pilot Si Perché Ogni volta Che dovete Respawnare Se Se il titano Diciamo Era disponibile Al momento Della vostra morte A quanto capito Potete scegliere Anche se Respawnare Direttamente Nel titano Stiamo andando A passare In punti strani Come vedete C'è la mappa Di gioco Sempre attiva E questa mappa Di gioco Mostra anche Le entità Nemiche Salve Qui La signorina Ci avverte Gentilmente Che il titano Sarà pronto In due minuti Salve Amico Ok Amico Non l'abbiamo beccato Ci leviamo 50 secondi 50 secondi Quindi Vediamoci Amici Datemi Sostegno Ok Non siamo in una buona posizione E infatti Eravamo troppo scoperti E Siamo stati Che dite Aspettiamo questi 8 secondi E sponiamo direttamente No Come non detto Comunque Vedete che le Le texture Sono fatte Diciamo Abbastanza bene Anche gli effetti Di luce Più che altro Si vedono Alcuni Alcune Oh mio dio Vabbè Questo ci ha Missilato Entriamo nel titano Uh Ok Vedete ci sono però Alcune sbavature Ovviamente L'impatto È positivo Cioè ci mancherebbe Anche Che Un gioco Diciamo Comunque Di questa Realizzazione Abbia un impatto Negativo Diciamo così Però C'è alcune Sbavature Se teniamo conto Che è un gioco Progettato Per next gen Che poi a quanto Io abbia capito Le declarazioni Di Microsoft Lasciano comunque Largamente intendere Che il gioco Uscirà successivamente Anche su Xbox 360 Non una grande mossa A mio parere Anche perché Comunque farlo uscire In ritardo Forse di un anno Questo ha un titano Che io non possego E quindi mi levo Perché non ho assolutamente Idea di che tipo di Che tipo di Di armi abbia O non so cosa Perché forse diciamo L'abbiamo aggirato In qualche modo Perché in un uno contro uno Non so quanto I titani forse Non possono Saltare Comunque si possono Elevare solo Di una quantità Diciamo povera Qualche Piccola Perla Sul titano Con LV Posso attivare uno spudo Vedete che Diciamo rispedisce I proiettili Indietro al nostro nemico Mentre con RB Posso attivare Diciamo I missili Vedete questi Salve Ok Via Via Vedete la barra in alto Come vi ho detto È lo scudo del titano E lo scudo si rigenera Lo scudo si rigenera Mentre l'energia No Questo ce l'ha proprio con me Che dite Proviamo a fare qualcosa Non so Non so bene The mage core online È per increase damage E incrisiamo E incrisiamo Questa damage Ok Ok Via 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 Amico Ecco Ma dai Ma abbiamo già perso Via Via Da che parte Da che parte dobbiamo andare Di qua Aiutiamoci Via Abbiamo già stati sconfitti Noi la Non ce la siamo cavata Malissimo Però A quanto pare Non è bastato Corriamo Sopra le scale Dobbiamo anche sopravvivere Però In questi 12 secondi Muoviti Non lasciarmi qui Nel frattempo Guardate Un po' Il panorama E la linea Dell'orizzonte Com'è Diciamo Ben curato Stiamo giocando Con tutto al massimo Ogni cosa possibile Al massimo Ovviamente Ora la nave Verrà distrutta Esatto No forse ce la facciamo Via Andate via Via Andiamocela Ce l'abbiamo Oddio Siamo finiti nello spazio interstellare Del Del cosmo Nell'infinito Wow Wow Siamo stati il primo Nella nostra squadra Con 27 punti Cosa ho fatto Sei 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 tre Sei tre Beh dai Ho fatto un buon rapporto Dai Non è vero Ma Pazienza Noi abbiamo perso Proprio in fretta Allora Siamo ancora a livello No siamo a livello 3 Siamo a livello 3 Mi dice che abbiamo sbloccato Un nuovo Ah è quello che aveva Il tipo di prima Sapete quello là Che mi stava Mi stava inseguendo La Quel tipo di titano Adesso lo proviamo Che ne dite Ok Torniamo a Angel City La mappa che Tra l'altro Avendola giocata due volte Conosco un pelino Andiamo a vedere Ah il Quad Rocket Il Quad Rocket Se non sbaglio Quello che ho utilizzato Nel training E' quella specie di arma Che sparava Era figa Sparava tipo Era un lanciarazzi Che sparava Dei razzi Però In modo circolare Stile Stile fuochi d'artificio Che continuavano a roteare Colpivano un po' Tutto ciò che trovavano Sul loro Sul loro cammino Per il resto Poi mi sembra uguale Abbiamo lo scudo I razzetti Allora lo proviamo Cosa dite Magari Funziona un po' Meglio Per il pilota Invece Abbiamo l'assassino Che ha la pistolina Penso che ha lo shotgun Però davvero Penso che la carabina Come fucile Il fucile d'assalto Sia la scelta migliore Anche perché Concordo con Andrea Su questo Le mappe disponibili Al momento Non sembrano Molto Adatte Anche comunque A un combattimento Close range Quindi all'utilizzo Di uno shotgun O delle pistoline Di precisione Sono comunque Mappe molto aperte E quindi Non capisco Come senza Un fucile d'assalto O comunque La forza La potenza di fuoco Di un titano Diciamo Si possa Reggere il confronto Con nemici Appunto Dalla lunga distanza Ecco Mi ci vedo lì Con la shotgun Da un palazzo All'altro Che sparo E l'altro Col fucile d'assalto Che mi Mi bisciotta Ecco Comunque ecco Le impressioni Per il momento Sono nettamente Proviamo il più L'artiglieria Sono nettamente Positive Devo dire Che Il sistema Comunque Di scontro E' abbastanza Frenetico Mi piace Non ci sono Instant kill A meno che non sei Sul titano Quindi c'è anche Diciamo Una minima parte Comunque anche Di scontro Ecco come dire Un po' quello che Si recriminava Ai call of duty Di essere troppo Instant kill Rispetto magari A giochi Fps arena Come magari Un unreal tournament Un serious m Dove c'è uno scontro Un po' più affiatato Ecco devo dire Invece che Titanfall Per ora Non mi ha Non mi ha Particolarmente Deluso sotto Questo aspetto Questo è un nemico No Non è un amico Ok Non ho ancora Avuto modo Di provare Quella cosa Fighissima Del saltare Sopra i titani Il saltare Sopra i titani Tipo per manometterli Perché non essendo Io particolarmente Bravo In questo genere Di giochi Non Diciamo Tendo a A uno stile Di gioco Conservatore Nel senso Che Tengo Tendo a Cercare di sopravvivere A dare meno Kill possibili Agli avversari Ho ucciso H.Neko 97 Mi spiace H.Neko Qualmente Sei anche un fan Di anime e manga Questo mi fa sentire Vicino alla tua persona Ma Mi spiace Guardali là Tutti ammassati Grazie È stato È stato un ottimo Lavoro di squadra Ui Una granata No Ok Pessima posizione Pessima posizione Pessima Posizione Ci siamo Trovati In una posizione Rialzata E scoperta Vedete Con un gruppetto Di nemici E ci mancava Diciamo Un supporto Nelle retrovie Dai nostri alleati Quindi Non era una situazione Diciamo Perfetta Per il titano Ancora c'è da aspettare Un po' Aia Oddio Una granata Cos'è Una EMP Una EMP Che penso Stiano iniziando Ad arrivare I primi titani Il che non è Ok Facciamo il possibile Ok È pronto Anche il mio titano Quindi a sto punto Direi Molliamo L'arma Del titano Infatti Siamo sempre Equipaggiati Con un'arma Anche In grado Di colpire I titani Salve La prego Mi accolga Nel suo ventre E mi permetta Di Di chillare Più avversari Possivi Ok Passiamo di qua La mappa Mi piace di più Perché ha molte più Coperture Diciamo Salve amici Ok Nella mappa Quanto pare C'è un titano Da quelle parti Poi è un titano Amico Vedete L'arma Mi dicevo L'arma Del tutorial Salve Proprio A pugni In faccia Ah già Che Continua A confondermi Su il fatto Che questi titani Non possono Forza In due Ce la faremo In due Ce la faremo L'abbiamo fatta Sì Abbiamo ucciso Il nostro primo titano In collaborazione Con In collaborazione Con l'amico C'è qualche Piccolo Mucolo Che ci sta Ok Dai Diamoci Del backup Acqua vicenda Salve Non capisco dov'è Un nemico Ah eccovi là Ma scusa c'è lì il mio amico Ma colpisci Di girati E abbiamo L'aumento Salve Questi mi hanno Stufato Ecco Proprio come si dice Se la montagna Se la montagna Ma ometto Non va la montagna Montagna Insomma Ecco Si siamo E che abbiamo Fatto fuori anche questo Dai Dai Ok Via 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 Oppa Via Mia nonne è un astronauta Popún Pop NutTS Scusate Era troppo forte Come stiamo andando 931 Però abbiamo mutato giù Qualche titano Quindi Sono Diciamo Soddisfatto Dal mio canto �elim or qua Camperiamo qua dentro Cerca Non mi vedi Quella colonna No 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 Che cavolo No Bernard No ma scusate Questa è stata Lì A fissarmi Oddio Non mi hai visto Non mi hai visto È una menzogna È una menzogna Non mi hai visto Ok Dai dai Guardate gli effetti di luce Spettacola No Sono stato ucciso dalla Diciamo La sua fuga Che ha detonato Un'esplosione nucleare Non ci credo Dai Tutto e tutto L'esplosione Avete visto Era Lettamente lontana Da me Non sono stato investito Neanche dall'onda Esplosiva Ma vabbè Fa niente dai Sto andando forse Dalla parte dove Non c'è nessuno Mi sto arrampicando Lo so solo io Sto facendo un po' di Un po' di parkour Guardate questo bel sakura tree Eh Non era proprio un bel posto Per chiamarlo In mezzo alla strada Però vabbè Salve Salve Eh lei è indistruttibile Imbarcati No Abbiamo perso Ma dai non è possibile che Per quanto io mi impegni A non A non A non fidare Magari se non colpisco proprio il mio amico In faccia Dai in due ce la faremo No mi sa di no In due non ce la faremo Allora senti ti dico Io ti mollo qua E vado a salvarmi No 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 Fammi Sparami in aria Sparami in aria Sparami in aria Non è vero Non mi spari in aria Abbiamo 30 secondi Veloci Salta Ma perché siamo sempre solo noi ad arrivare qua Non si sa Vabbè ce ne andiamo nell'iper spazio cosmico dell'infinito anche stavolta La nostra sconfitta è il nostro 3-2 Pazienza che devo dire I nostri 31 attrition point Riusciremo a vincere una partita Inizio a perdere le speranze Sinceramente Però vabbè insomma Pensavo di andare peggio Comunque qualche kill la faccio Cerco di non morire troppo Dai meglio di niente Ah forse le kill dei Le kill che fai sui diciamo soldati Quelle sui titani sono Si sale di livello abbastanza in fre- Siamo già a livello 4 Abbiamo sbloccato anche qualcosa Challenges Visita il menu delle sfide Per vedere le sfide disponibili Ok sono tipo degli achievement Ah qua fa vedere Esatto sono tipo degli achievement Anche questo molto stile code Devo dire Dove si vede la mano La mano del team ecco Allora Non so cosa dite Ne facciamo Facciamo l'ultima Così ancora per Giusto per Parcondicio Due in Angel Fall Due in Fracture Ma si dai Facciamo ancora l'ultima Facciamo ancora l'ultima E vediamo un po' Che cosa Cosa ci riserva Questa nuova Nuova Fracture La seconda volta Che la provo Qua devo dire Il gioco Mi piace abbastanza Mh Resta comunque Fuori dal mio genere Però devo dire Che non è male Quindi utilizzate i commenti Sotto al video Mi raccomando Come avete fatto per Castlevania Lord of Shadows 2 Che devo dire Mi avete dato un ottimo feedback Quindi sono contento Mi spiace ovviamente Se magari questo video Può risultare anche un po' Meno divertente Rispetto all'altro Però Non vedo davvero come Non c'è davvero molto Da commentare Diciamo in un FPS Nel senso che Non ci sono Comunque Ecco Quegli scenari Che in un action Non è che in Slash Come Castlevania Potevano darmi un po' Il pretesto Anche per divertirci Un po' insieme Però diciamo Che la mia nabbagine Può essere altamente Sufficiente Direi Per trattenere un po' In questo video Comunque ripeto Datemi feedback Nei commenti Perché ci tengo tantissimo E poi penso Possa essere costruttivo Insomma Parlatemi un po' Se avete avuto modo Di provare Questa beta Se siete intenzionati A comprare Titanfall Magari l'avete già Per ordinato Per Xbox O per PC Non lo so Fatemi sapere Ma se facciamo tipo Facciamo tipo Andiamo Facciamo hipster E prendiamo questa shotgun Che non so bene Come andrà utilizzata In uno scenario Totalmente aperto Come questo Ok proviamo Tanto Abbiamo capito Che le perdiamo sempre Magari in questa qua Adesso Faccio pena Faccio fidare Come non so Che cose nemici E la vinciamo Non l'ho mai utilizzata A 6 colpi Guardate È tutto aperto Qua esattamente Come Pistolino Non so come Utilizzerò La nostra shotgun Ma A pazienza Il prossimo video Così la utilizzerò Nel prossimo video Magari vi faccio vedere L'altra modalità Non so Se farvi vedere Quella della Diciamo Conquista dei punti O Last Titan Standing Forse quella Della raccolta Della difesa Dei punti Della conquista Dei punti Last Titan Standing Alla fine È un deathmatch Anche quello Vediamola sotto Questo punto di vista Mi piace molto La texturizzazione Dell'ambiente Come ho detto Ha qualche sbavatura E ha un occhio attento Anche Abbastanza evidente Però devo dire Che nel complesso Comunque la scelta Dei colori Scelta dei colori Che ricorda Molto Mi ricorda Moltissimo L'ultimo ghost Di Call of Duty Ha proprio È quella paletta Dei colori Proprio che Ti richiama L'attenzione Rispetto magari Alla paletta Di colori Di un battlefield Di un crisis La paletta Qualsiasi cosa Che citi la grafica E metta crisis Nella frase Non può che Rasentare quasi La perfezione Però Insomma ci siamo capiti Non conosco assolutamente Questa mappa Albero Questi sono Sono dei nemici In quanto i nemici Mi ucciderò Qua c'è già pensato qualcuno Ok vedo che La festa È da questa parte Quindi Vi avviciniamoci Devo dire Che non è male Questa shot Io mi aspettavo Una shot Un po' più Un po' più lenta Un po' più macchinose Invece Ok da così Non ne facciamo niente Ok no Non mi farò prendere Dalla roba nucleare Qua Come prima Vuol dire Appunto Che questa shotgun È abbastanza Come dire Automatizzata Quindi Era un po' difficile Guardate come ci ha preso Guardate Eravamo tutti lì Questo ha attivato Con LB E ci ha fatto fuori Vabbè Non è male Guardate È proprio Pam Pam Il nostro titano Invece Ancora È un po' Un po' Perso Non si sa Ok Ce l'abbiamo Però volevo Dare una mano Al mio amico Qua No Uno da dietro Con la shot Guardate Guardate il campero Camperone Là dietro Il nostro titano Ancora Non è pervenuto Eccolo 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 Semmo una zona abbastanza tranquilla Oh pioggia di stelle Su di me Eccolo qua Vai titano Conduci mi alla vittoria Stiamo vincendo Vero Ma se Quando mai Quando mai stiamo vincendo Non capisco perché finisco sempre nel team Il team perdente Io dal conto mio cerco di non dare kill Quindi non do punti per la vittoria agli avversari Vabbè Non sarò un maestro degli FPS Come dico sempre Ma Questo è un amico o un nemico? Cosa non si sa È un nemico Ma salve No 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 Il mio scudo Il mio scudo Ma perché gli altri Io muoio sempre così rapidamente Mentre gli altri sono resistenti Come non si sa che cosa Eh il nostro titano è già È già bello che è andato Andiamo di qua Verso questa vita Poi Non mi spaventare così Non mi spaventare così Mi sa che avremo già la sconfitta in mano C'è qualcuno È rimasto qualcuno a terra da uccidere No Dobbio per forza uccidere in Tita No Non ho mai visto È una menzogna Non ho mai visto Eh dai Facciamo il possibile Dove cavolo è finito? Meglio non scoprirlo Stiamo qua con i nostri amici L'ho disintegrato No 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 Uuuuh In faccia proprio In the face Dobbiamo evocare il titano Ci chiamo un punto Un punto titanoso Tipo qua dietro Mi chiamo abbastanza titanoso Qua 129 a 228 Ma ci facciamo Surclassare è poco Imbarcati Imbarcati verso Lampedusa Andiamo Vai Dai Dai Madonna ma siamo proprio Squishy Ecco abbiamo perso Epilogo Proprio è la fine Vai Vabbè tanto a questo punto Cerchiamo di guadagnare Più strada possibile Dove diavolo è sta navicella Qua Vabbè in un punto accessibile stavolta Accessibile anche per loro il problema Un altro E pensavo anche di sopravvivere Cioè pensavo anche di sopravvivere lì in mezzo Cos'è un titano Buggato nell'ala dell'aereo Please fix Next player Non mi interessa Mi ha perso Eeeh Ok basta Vabbè siamo arrivati i secondi Nella nostra squadra abbiamo fatto 4,3 4,3 5,2 Quindi devi contare ogni cosa Non ti dice un contatore di morte universale Tutto diviso Arriveremo al livello 5 Abbiamo fatto tre livelli Senza neanche vincerne una No, non arriviamo a livello 5 Ok, eh no, basta usciamo Prima che parte un'altra partita Quindi niente Questa era la modalità attrition Di Titanfall, scrivetemi nei commenti Come vi è sembrata, datemi dei feedback E ci vediamo al prossimo video Dove proverò, penso La conquista dei punti Diciamo a squadra Ecco, quindi Quindi niente, qui da Felice È tutto, spero che questo video vi sia piaciuto Pollicione in su e Lasciate un commentino se volete E ci vediamo al prossimo video Bye bye